Per quattro anni, macchina che si è messa in movimento, uno Druso, Gennaro Amitrano, due Dada Baba, Ferdinando Minopoli, tre Dardo MP, Mario Minopoli, quattro Dibala, ZS, FZ, Vincenzo Luongo, cinque Dream of Derby par, Gaetano Di Nardo, sei Duca del Bar, Antonio Simioli, sette Dickens, Roberto Vecchione, otto Dynasty Nobel, Vincenzo D'Alessandro. Partono piano Duca del Bar e Dynasty Nobel, al pari di Dickens. L'errore di Dada Baba, Druso in vantaggio nei confronti di Dardo MP, che si ritrae alle sue spalle. Lungo la corda di Bala ZS, per linee esterne Dickens, si presenta Dardo MP sulla condiscendente Druso, ottiene il via libera, il completamento dei 400 metri iniziali, passati in 29,3. Davanti alle tribune, Dardo MP in vantaggio nei confronti di Druso, che ha all'esterno la sagoma di Dickens, nella cui comoda scia va a sistemarsi Dream of Derby par, problemi per Duca del Bar. 44, pure un filo scarsi gli svelti, 600 metri da parte di Dardo MP, che continua a comandare con un paio di lunghezze di margine ai confronti di Druso. Dickens, che deve essere un po' gestito, soprattutto sulle curve, 59,5 gli 800 metri iniziali. Ora il passo di Dickens, che approfitta dell'addirittura opposta per risalire, a lato di Dardo MP, il chilometro 1,13,8 sulle sue tracce, Dream of Derby par. Poi, dopo l'errore iniziale, Dada Baba, attacco della piegata finale con Dickens, che si industria a lato di Dardo MP, tre quarti milioni, 1,28,2,14,3. L'ultimo paletto è addirittura a posto, lì a contatto c'è ancora affari spenti, Dream of Derby par passa Dickens, che è subito preso sottotiro da Dream of Derby par. Dickens è in vantaggio quando siamo a 200 metri dalla conclusione, Dream of Derby par che va al suo inseguimento a 100 dalla termine. Dickens in vantaggio nei confronti di Dream of Derby par, nel finale Dickens che tiene a bada tutti i tentativi di Dream of Derby par. mentre al terzo termina a distanza Dynasty Nobel, 1,58 il totale, 29,8 gli ultimi quattro successo di Dickens. Roberto Vecchione, la seconda Margherita in giornata, stavolta per Holger e l'articolore al signor Vincenzo Petrella. Al secondo Dream of Derby par, al terzo a qualche lunghezza emerge Dynasty Nobel, 7,58 l'ultimo ordine arrivo della giornata da Napoli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.